Ma ciao gente, come state? Avete acceso oggi un cerino per Jerome Powell? No, perché sembra che ultimamente sia solamente la Fed a determinare cosa succederà sui mercati o meno. Powell ha appena parlato e ha detto che ci sarà la necessità di fare ulteriori aumenti dei tassi e anche martedì prossimo Powell tornerà a dirci la sua opinione sullo stato di salute dell'economia. A quel punto avremo un pochino più le idee chiare su cosa ci aspetta, si parlerà concretamente di quanti e quali rialzi avverranno e chi lo sa forse saranno gli ultimi o almeno questo è quello che la maggior parte del mercato sta pensando in questo momento. Tutto ciò sembra quindi suggerire che ci stiamo avvicinando alla fine dell'epoca dei rialzi e che siamo pronti per ripartire in un certo senso. Peccato che stiamo tutti trascurando un parametro importantissimo che ve lo dico è quello che in questo preciso momento anzi negli ultimi due anni dal 2020 in poi determina singolarmente se i mercati salgono o scendono e in questo momento la situazione è molto molto delicata. Gli investitori quindi in questo momento prima di pensare o meglio di sperare che le cose vadano per il meglio dovrebbero capire in che situazione ci troviamo. Iniziamo. Ciao a tutti ragazzi io sono Pietro e ve lo devo dire fin da subito il video di oggi è un pelo tecnico non perché sia un video difficile anzi secondo me tutti possono capirlo però ci sono vari elementi del puzzle che adesso andremo a spiegare che sono tutti connessi tra loro quindi ci vuole solamente un pizzico di concentrazione. Io è più o meno 5 giorni che sto scrivendo questo video e ho cercato di semplificarlo il più possibile e penso di avercelo abbastanza fatta quindi il mio l'ho fatto ora tocca a voi. Iniziamo. Voglio parlarvi del fattore che più di tutti influenza i mercati ultimamente diciamo negli ultimi due anni ossia la liquidità. In un sistema economico in un paese c'è sempre della liquidità dei soldi sostanzialmente ma nel 2020 a causa della pandemia questi soldi sono aumentati quasi raddoppiati nel giro di pochissimo tempo. La Fed ha infatti aumentato il suo bilancio facendo quello che si chiama quantitative easing abbreviato QE. Per evitare che il credito in quel preciso momento collassasse perché tutti stavano vendendo tutto la Fed ha creato nuova moneta con cui ha sostanzialmente acquistato obbligazioni e titoli di Stato. In questo modo è riuscita a fare due cose contemporaneamente tanto per cominciare finanziare il governo che in quel momento stava facendo molta fatica a finanziarsi e secondo luogo a riportare un pochino in pari il mercato dell'obbligazionario che in quel momento era veramente folle. Tutto ciò però ha avuto un costo quanto quanta moneta è stata creata circa 3000 miliardi di dollari. Sappiamo tutti che quando si crea nuova moneta normalmente aumenta l'inflazione. Questo è quello che ci hanno sempre ripetuto tutti abbiamo anche dei casi estremi come il Venezuela come lo Zimbabwe che stampavano un sacco di nuova moneta e l'inflazione diventava altissima dei livelli insostenibili. Ma quindi com'è possibile che nel 2020 sono stati creati tantissimi soldi nuovi ma l'inflazione non è aumentata? Sappiamo infatti che l'inflazione è iniziata ad aumentare tanto a metà circa del 2021 e non nel 2020. Il motivo è che la moneta si trasforma in inflazione solo quando questa entra nel mercato e nel 2020 la moneta non è mai entrata nel mercato. La Fed in quel preciso momento creava nuova moneta con cui il più delle volte acquistava titoli di Stato. Quindi il governo ha preso una parte di quella nuova moneta e ha fatto sì che non entrasse mai nel mercato. Come vedete dal grafico il governo ha venduto alla Fed circa 1500 miliardi di debito che il governo non ha usato subito quindi li ha tenuti lì per un po' fermi sostanzialmente perché non si sapeva ancora come agire durante la pandemia. Quali sono le misure migliori per sostenere imprese e famiglie? Boh all'inizio ci si è dovuto pensare un po'. Quando però a inizio 2021 il governo ha iniziato a utilizzare in modo massiccio tutti questi soldi allora quei 1500 miliardi li ha messi nel mercato e ecco che è iniziata ad aumentare l'inflazione. Nuovi soldi sono effettivamente entrati nell'economia. E abbiamo avuto i primi dati sull'inflazione 4, 5, 6% valori alti ma nemmeno troppo alti se pensate che abbiamo 3000 miliardi di moneta nuova. E il motivo di nuovo è che tutta questa moneta non è entrata nel mercato. Non per il governo questa volta ma per un altro elemento. Sto parlando dei repo. I reverse repo, ossia reverse purchase agreement, sembra un nome complicato ma vi assicuro è semplicissimo, sono sostanzialmente uno strumento con cui le banche che non sanno come utilizzare la propria liquidità se la cavano. Le banche infatti dovete sapere che non sono autorizzate a detenere tanta liquidità. Devono per forza investirla, questo in modo da tutelare i correntisti. Ma se le banche sono in un clima di forte incertezza come quello che stiamo vivendo adesso, dove non si sa come investire perché ogni sessione la banca centrale aumenta i tassi, qual è la cosa migliore che si può fare? Posizionarsi, quindi investire a brevissimo brevissimo termine. Magari anche un giorno. Ed ecco che entrano in gioco i repo, ossia uno strumento creato dalla Fed con cui le banche possono dare questa liquidità che, l'abbiamo detto, non possono tenere la danno alla Fed. La Fed in cambio gli darà un prestito, una sorta di microobbligazione per un giorno. E dopo un giorno la banca riceverà indietro i propri soldi più anche un pochino di interessi. Comodissimo per chi non vuole investire a medio o lungo termine. E in questo momento di forte incertezza, dove la banca centrale continua ad aumentare i tassi ogni volta, i repo vanno di gran moda. In questo momento, considerato anche i repo che vengono acquistati dall'estero, il totale ammonta circa 2.500 miliardi di dollari. E tutti questi soldi non sono ancora entrati nel mercato, perché da quando il mercato dei repo è cresciuto, questi soldi di fatto non sono mai stati trasformati in qualcosa. E quindi possiamo dire che i repo così alti contribuiscono a tenere bassa l'inflazione. Peccato che prima o poi le banche dovranno smettere di acquistare ogni giorno i repo e così via per ogni giorno che segue. Perché hanno delle esigenze particolari, magari vogliono pensare dei prodotti di investimento più a lungo termine, vogliono coprirsi, fare edging su alcune cose. Ecco che investire a un giorno diventa un po' un ostacolo, è una soluzione temporanea ma non si vede l'ora di andare avanti. D'altronde se i tassi domani saranno più alti di oggi, che senso ha investire oggi? Molto meglio investire domani, rimandare a domani e così via e così via. Se la Fed quindi in questo momento si fermasse con gli aumenti dei tassi, ecco che allora tutti questi repo, tutti i soldi dei repo, piano piano entrerebbero nel mercato. E quindi andrebbero a gonfiare tantissimo azioni e obbligazioni. Infatti le banche non vedono l'ora di collocare questi 2000 miliardi da qualche parte. Ed ecco quindi che stanno solamente aspettando che Powell inizia a dire, ok sapete cosa? Con gli aumenti dei tassi direi che per ora basta così. Quindi possiamo assolutamente dire che c'è una correlazione diretta tra la liquidità che c'è nei mercati e gli stessi mercati. Più liquidità entra nei mercati più questi salgono o almeno così è dal 2020 in poi. Volete la dimostrazione pratica? Guardate il grafico che vi sto facendo vedere. In blu abbiamo la liquidità netta, quindi sostanzialmente quello che abbiamo descritto finora. Ossia il bilancio della Fed meno i debiti del governo verso la Fed, i soldi quindi che non sono ancora entrati nel mercato, meno i repo. Invece in arancio avete l'S&P 500 e guardate le due linee come corrispondono. Quindi quello che possiamo aspettarci è che quando la Fed inizierà a tagliare i tassi, moltissima liquidità nuova, fresca fresca, entrerà nel mercato. Mercato che tenderà a salire. Però attenzione, perché non salirà su basi fondamentali, perché le aziende sono migliori, perché ci sono utili di qualità. No, salirà semplicemente perché c'è più liquidità. Ora quindi bisogna rispondere alla domanda delle domande, sì ma la Fed, quando inizierà a tagliare i tassi? La prospettiva ad oggi degli stessi membri della Fed, che ricordiamolo sono quelli che decidono, è che alla fine del 2023 avremo dei tassi tra il 5 e il 5,25%. Il mercato però è un pelo più ottimista. Infatti oggi, mentre registro, il mercato si aspetta che la Fed aumenterà i tassi fino a giugno, fino a circa il 5%, quindi le due prospettive fino a qui coincidono, ma poi si aspettano addirittura che la Fed inizia a tagliare i tassi. A mio avviso è un eccesso di ottimismo. Inoltre, concentriamoci sul grafico di prima, quello che mette insieme liquidità e S&P 500, e guardiamo proprio l'ultimissima parte. Come vedete, in questo preciso momento, proprio negli ultimi giorni, la liquidità sui mercati non è aumentata, anzi, è leggermente calata. Nonostante questo, l'S&P 500 sta crescendo. Il mio consiglio, quindi, è quello di monitorare accuratamente sia il mercato dei repo, che in questo momento è quello più delicato per la tenuta di tutta questa programmazione che sta facendo la Fed, ma anche e soprattutto cosa dice la Fed, quindi monitorare che cosa ha intenzione di fare con i tassi futuri. In questo momento vi invito a ragionare sul fatto che abbiamo un mercato molto, molto ottimista, abbiamo anche un mercato che sta scontando addirittura dei tagli dei tassi a metà anno, altra cosa molto ottimista, che sta salendo nonostante non stia entrando nuova liquidità sui mercati e che proprio anche a livello grafico ha spinto parecchio ultimamente, quindi fossi in voi farei molta attenzione e non penserei minimamente in questo preciso momento di entrare con tutto il capitale pensando che sia questa la ripartenza. Anzi, proprio perché la Fed in questo momento ha circa 2000 miliardi di dollari qua sul collo, che fiatano in modo abbastanza importante, non è assolutamente detto che la Fed ci andrà piano, ma anzi è possibile che la Fed aspetterà che il mercato dei repo si sgonfi gradualmente da solo e che quindi normalmente inizierà ad aumentare i tassi non più a dei livelli importanti come 75 punti base, l'abbiamo visto nel 2022, ma magari 25 punti base, di nuovo 25 punti base, di nuovo 25 punti base e così via, fino a quando piano piano la situazione non si sistema, ma potremmo parlare addirittura di 6-8 mesi. Ai livelli attuali poi, e va anche detto, abbiamo delle aziende che hanno toccato dei livelli che non vedevano veramente da tantissimo tempo, sulla base di un barlume di notizie positive che abbiamo visto, a cui però io non vorrei dare troppo peso, quindi in certi casi potrebbe pure essere l'occasione di prendere qualche profitto. O almeno questo è quello che sto facendo io col mio portafoglio. Voi invece cosa ne pensate al momento della situazione? Conoscevate il mercato dei repo e quanto questo sia importante e determinante per la tenuta del sistema o è tutta una cosa nuova? Fatemelo sapere ovviamente qua sotto con un commento e ditemi anche col vostro portafoglio come vi state comportando, sono molto curioso di sentire appunto le vostre idee. Per oggi è tutto, un saluto e alla prossima!